L'apertura del nostro notiziario ci porta a parlare di un operaio di 49 anni residente a San Benedetto del Tronto che è morto mentre lavorava alla Metallurgica Abruzzese, un'azienda che produce reti metalliche a Marina di Mosciano Sant'Angelo. L'uomo è rimasto schiacciato da un macchinario. Secondo una prima ricostruzione la macchina alla quale l'operaio era impegnato si era bloccata. Il 49 anni avrebbe cercato di metterla in movimento ma a quel punto è rimasto schiacciato. Sul posto è arrivato il 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La vittima si chiama Tonino Fanesi, lascia la moglie e tre figli, nato a San Benedetto del Tronto, abitava Giuliano Valta. Tutti lo ricordano come un grande lavoratore, un padre, un marito esemplare, un uomo a buono, un lavoratore serio e scrupoloso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mosciano Sant'Angelo e il servizio di sicurezza sul lavoro dell'asla di Teramo. Grazie.